Vi presentiamo un pezzo veramente fine, sottile ed atmosfera. Un pezzettino della pizze delicato, delicato come noi, delicato come la tua... Delicato, dicevo, come la poesia della banda Roselle, questa banda così delicata, così fine, così atmosferica. Questo pezzo è un trittico, è un insieme di pezzi francesi. Italiani, stranieri, meravigliosi. Questo pezzo si intitola trittico e noi lo diamo come pezzo atmosferico, sperando che questo sole, questo sole, questo sole, risplenda. Voglio il ora, voglio il ora. Il ora, voglio il ora, voglio il ora, voglio il ora. Ecco! Hum. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.